Si ferma a quota 4 la striscia di vittorie consecutive dell'Unione Calcio Biceglie, bloccata nel finale dalla Fortis Murgia nella gara valevole per la 25esima giornata del campionato di prima promozione. Mister Ferrante deve fare di necessità virtù considerando le concomitanti squalifiche di Porcelluzzi e del bomber Corrado Ferrante, top scorer della squadra con 15 reti, ma recupera Mattia Pasculli assente nella vittoriosa trasferta contro la Rutiglianese. Parte bene la squadra di cassa che sfiora il gol al terzo sugli sviluppi di un corner battuto da Pasculli, Nicola Di Pierro tocca di testa ma c'entra la traversa. La Fortis Murgia non sta a guardare, si rende pericolosa con Panzarea, la cui conclusione al quinto viene respinta da Antonino. Al ventunesimo il portiere ospite lo Porchio respinge da campione la punizione dalla tre quarti di Pasculli. L'Unione torna ad attaccare alla mezz'ora con un colpo di testa di Antonio Monopoli che non c'entra il bersaglio grosso. E' solo il preludio al gol che arriva al trentatreesimo, punizione battuta da Giuseppe in grosso, colpo di testa di Di Pierro, sfera che bacia il palo e termina in fondo al sacco. Per l'ex Bicelle si tratta del quarto gol stagionale, rete che interrompe l'astinenza che durava sin dalla sesta giornata. Nella ripresa la Fortis Murgia non demorde aumentando il pressing, al diciottesimo Antonio Monopoli sventa clamorosamente sulla linea il tentativo di Panzarea. Al trentanovesimo la Fortis Murgia perviene al pareggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo e direttore di gara il signor Miceli di Taranto ravvede un fallo in area d'opera di ingrosso, comandando così la massima punizione per gli ospiti con successiva espulsione per il difensore ex Bicelle. Dal dischetto Panzarea spiazza Antonino gelando il diritto. Al quarantaquattresimo ci provano ancora i bicegliesi con Monopoli, Loporchio fa buona guardia. Con il pareggio contro la Fortis Murgia il Biceglie vede allungare a quota sella la striscia di imbattibilità e complice alla concomitante sconfitta il motesantaggio della Carapelle aggancia proprio i garganici, nonché prossimi avversari.